Il bilancio per fortuna non è stato grave, due feriti trasportati in ospedale in codice giallo, ma le conseguenze per la viabilità sono state penose per centinaia di automobilisti che sono rimasti intrappolati per più di un'ora sulla tangenziale di Salerno in una torrida serata di luglio. L'incidente è poco dopo le 18 e nonostante il lavoro senza sosta di vigili del fuoco, polizia stradale, ANAS e mezzi di soccorso, la circolazione è stata possibile solo dopo le 19.30. Subito trasportati in ospedali feriti e rimosse le auto coinvolte, le difficoltà maggiori sono state quelle di rimuovere il pesante mezzo, che aveva occupato di traverso l'intera carreggiata della tangenziale. L'incidente è in direzione nord, a poche centinaia di metri allo svincolo di Ponte Cagnano. Come si può notare anche da queste immagini, non è stato semplice nemmeno per i mezzi di soccorso raggiungere il luogo dell'incidente. Unica possibilità era prendere contro mano lo svincolo per evitare l'imbuto di auto che cresceva di minuto in minuto, fin quando non è stato possibile impedire l'accesso alla tangenziale. L'incidente di ieri ripropone la necessità di adeguare questa strada di Salerno, diventata una delle principali arterie viarie dell'area che va da Ponte Cagnano al capoluogo. La realizzazione di una corsia d'emergenza diventa sempre di più necessaria, improcastinabile, per evitare quello che è accaduto ieri, con un incidente che ha trasformato la strada in una prigione per centinaia di automobilisti.